Il prossimo 5 febbraio si celebrerà la 39esima giornata nazionale per la vita in vista di questa data nel messaggio del Consiglio Episcopale Permanente. La CEI sottolinea che occorre fare lo sforzo di resistere alle sirene di un'economia irresponsabile che genera guerra e morte. Educare la vita significa entrare in una rivoluzione civile, aggiunge la CEI, che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale.